emma marrone ha avuto un crollo emotivo e psicologico dopo la morte dell'amato padre rosario crollo che tuttora non sembra essersi arrestato lei stessa lo ha lasciato intendere attraverso una story instagram fiume postata nelle scorse ore l'artista è arrivata persino a descrivere una sorta di apatia da palcoscenico che l'ha colpita dopo il decesso del genitore quel palco che l'ha fatta diventare la star della musica italiana che è oggi quel palco che l'ha fatta emozionare a non finire quel palco che le ha regalato sogni amore e popolarità oggi non le fa sentire più niente la sofferenza dettata dal lutto è una morsa dalla quale non riesce a sottrarsi è un dolore che la permea fino in fondo all'anima questa la riflessione zeppa di tribolazioni interiori che è ma messo nero su bianco nella nella tarda serata di sabato 10 dicembre prima di salire sul palco e subito dopo appena scendevo dopo il palco io ti telefonavo chicca mia amore di papà com'è andata tutto bene adesso io ti chiamo ma tu non mi rispondi io su quel palco però ci salgo lo stesso ma non è più lo stesso niente è più come prima senza mi trascino nelle cose le gambe sono stanche come l'anima trema tutto anche la voce trema perché vorrei urlare il tuo nome che va giù nella gola insieme alle lacrime eri la mia ancora il mio porto sicuro la misura giusta di tutte le cose eri semplicemente papà e io la figlia del che fatica essere me senza di te che fatica a ricominciare da capo senza il capitano la nave adesso è sola nelle mie mani ma ricordo perfettamente la rosa dei venti che ti eri tatuato sul braccio so dove punta il nord e se il motore non parte o le braccia forti per remare eravamo due di due come nel romanzo di andrea de carlo ora non so cosa casterisco asterisco sono papà la verità è questa canto per istinto per sopravvivere canto solo per te perché adesso io non sento niente niente papà sento